Per quel poco di esperienza che ho maturato negli anni nel leggere i decreti legge, l'obiettivo non è la lotta agli scafisti come sarebbe auspicabile o la lotta alle mafie, ma è tutt'altro, non ci sono paragrafi e capitoli che in questa direzione, anzi mi è parso di intravedere anche sui beni confiscati, ci sono delle modifiche significative dove si perde un po' il protagonismo dei comuni che per esempio hanno un ruolo importantissimo perché abbiamo sempre detto che il messaggio più forte quando un bene confiscato viene sottratto alla criminalità lo si affida all'ente che è titolare sovrano perché è in contatto anche con la cittadinanza che è il comune che attraverso i bandi di evidenza pubblica e i gestici invece entrano in gioco altre pubbliche amministrazioni, poi ci ritorneremo nel dettaglio nei prossimi giorni, io mi sento di dare adesso un quadro di natura generale non è il decreto sicurezza, questo è il decreto che alimenta l'insicurezza e porta il nome del ministro dell'insicurezza nazionale, questo mi sento di dirlo con molta onestà intellettuale, con umiltà nei confronti sempre dell'istituzione centrale ma col coraggio civico che deve contraddistinguere chi si impegna da anni all'interno delle istituzioni e vedere un paese scivolare in questa deriva certo anche per colpe di chi politicamente è amministrato prima ma noi che non abbiamo quelle colpe magari ne abbiamo altre di altro tipo ma non certo di miacchiarci di violare così apertamente le libertà civili e i diritti costituzionali. I parcheggiatori abusivi si diceva che in questo decreto bisognava prevedere un inasprimento delle penne. C'è un allargamento della possibilità di utilizzare il DASPO nel senso sono aumentati i luoghi su cui... però là diciamo io per esempio in attesa del regolamento comunale io ho dato la possibilità con l'ordinanza che voi credo avete trattato al questore esatto ma non solo là di dare al questore di maggiormente incidere e in queste ore in questi giorni in queste settimane qualcosa la si sta facendo però poi io parlo col prefetto i prefetti vengono anche diminuiti con questo decreto parlo con i questori col questore e loro mi dicono che non hanno sufficiente personale per fare tutto quindi alla fine mi pare che questa risposta qui non c'è anzi ci sarà un impiego massiccio di forze per comprimere le libertà e i diritti a chi alla fine non ha fatto nulla. Io vorrei che si comprendesse il dato che tenere una persona sofferente, malata, spaventata, impaurita che arriva in Europa senza desiderarlo perché loro vorrebbero rimanere in Africa e può essere detenuto senza aver commesso alcun reato per 180 giorni, 30, 60, 90, 120, 180, sono sei mesi, sei mesi, più tutte le trafile, stiamo in qualche modo cominciando a avviarci verso i luoghi di detenzione in cui si discriminavano le persone a seconda se erano rom, occhiamandorla, sinti, camminanti, neri insomma io francamente non mi riconosco in questo governo, è meglio prenderne veramente le distanze quanto prima perché è davvero inquietante. Io ho un profilo istituzionale, non amo mai tirare per la giacchetta nessuno, né mi faccio tirare io per la giacchetta, anche se oggi mi farei tirare la giacchetta perché fa caldo quindi me la farei togliere, però il Presidente della Repubblica è il garante di equilibri costituzionali, non ha bisogno chiaramente di un piccolo sindaco di una grande città per poter esercitare le sue funzioni, è chiaro che siamo preoccupati, non c'è dubbio, tra l'altro si scarica tutto questo sui comuni, dove poi si alimenta la tensione sociale, quando tu arrivi a dire che è un corteo, sostanzialmente partecipi a un corteo e non puoi tornare a casa perché viene arrestato, fai un ambulatorio popolare in un luogo che era degradato e rischi di essere intercettato e arrestato, si può esplodere una bomba sociale perché se tu alimenti il conflitto tra italiani e stranieri dove andiamo a finire, mentre invece si potrebbero utilizzare di più gli Sprar, pretendere un coinvolgimento maggiore di tutta Europa e di tutta Italia, la gente non se ne sarebbe manca accorta della presenza degli immigrati che è già profondamente diminuita negli ultimi anni, la situazione del basto, ma chi l'ha creata? L'hanno creato i governi, i governi di centro-sinistra e purtroppo anche, no purtroppo, i governi di centro-destra anche a guida Salvini, quindi alla fine loro hanno prodotto il problema e ne mettono in campo una medicina che è olio di ricino, non è una medicina che affronta il tema dell'integrazione.